Siamo sempre qui in comune a Legnano per continuare il nostro giro con i miei assessori della giunta Centinaio. Siamo con Piero Luminari, benvenuto Piero su Legnano Web TV. Grazie. Piero, la prima domanda che voglio porti è un attimino il tuo rapporto con Legnano e cosa hai fatto negli ultimi anni qui a Legnano. Io sono residente a Legnano da 30 anni, però di fatto fino a 6 anni fa a Legnano mi limitavo a dormirci, perché tutta la mia attività era su Milano, dove fino a pochi anni fa ero direttore generale di una società di circa 800 persone con sede in tutta Italia, società che operava nel settore della progettazione di sistemi software e nella gestione di servizi di outsourcing per le banche. Ecco, proprio nello svolgimento di quell'attività, di quel ruolo ho sviluppato delle competenze che poi ora vengono messe in gioco. Le competenze quali gestione del personale, organizzazione di realtà complesse, contabilità, controllo di gestione, controllo di qualità, marketing e così via. Poi circa 6 anni fa ho cessato l'attività professionale e ho deciso di dedicarmi un po' ai problemi della città, scoprire i problemi della città. L'ho fatto aderendo alla lista civica Insieme per Legnano, fondata proprio allora da Franco Crespi. Una lista civica che raccoglie persone di varie sensibilità politica, trasversale rispetto ai partiti, centrata un po' sui problemi della città. Ecco, i temi a cui mi sono dedicato erano un po' quelli legati alla mia storia personale, quindi temi di natura economica. Quindi il problema della crisi dell'alto milanese, storia economica dell'alto milanese e approcci, possibilità per un rilancio dell'attività economica dell'alto milanese. La struttura del gruppo AMGA, il suo funzionamento e i bilanci del comune di Legnano. A questo punto poi mi trovo qui, mi hanno chiamato a svolgere questo incarico e mi ritengo un tecnico prestato al governo della città. Perfetto, entrando più appunto nel tema tecnico, quali sono gli assessorati che andrai a coprire e se ce li spieghi brevemente? Dunque, la storia è quella al bilancio e per questo motivo praticamente sono entrati in full immersion da circa 20 giorni. Direi una discesa non all'inferno perché sempre ci sia il purgatorio e ritorno, perché in circa tre settimane ho dovuto prendere dimestichezza con le normative della contabilità pubblica che non coincidono con quelle dell'azienda privata. I problemi specifici del bilancio di Legnano e lo scoglio pazzesco, per non dire l'iceberg, del patto di stabilità. Ce l'abbiamo fatta con l'aiuto veramente alla dedizione, la competenza del personale e dei vari uffici competenti del comune e quindi martedì scorso abbiamo consegnato la proposta di bilancio ai consiglieri e verrà discussa e votata verso metà luglio. Ecco, poi votata comincia il duro perché poi va gestito il bilancio e il problema più grosso, anticipo, sarà il rispetto del patto di stabilità. Perfetto Piero, io ti ringrazio della disponibilità, ti faccio l'imbocca al lupo per i prossimi mesi e soprattutto per la tua amministrazione e grazie ancora. Grazie a voi. Grazie a voi.